Il 25 di dicembre si avvicina e oggi, 28 novembre, si accendono le luci qui in Piazza della Repubblica a Montecchio, un modo di coesione e di unione, come ha spiegato anche il sindaco di Vallefoglia, Palmirucchielli. È un po' di luce sul futuro di questi territori, sul futuro di questo paese e speriamo più in generale superare quanto prima questa benedetta pandemia. E' una serata importante, l'accensione delle luci è di buon auspicio, c'era un bel arcobaleno questa sera, quindi speriamo che sia anche questo un segnale importante. Come si vede ci siamo costretti a stare anche all'aperto con le mascherine, quindi l'invito è sempre a fare i vaccini, a mantenere le distanze, a fare l'igienizzazione, però è che è un segno anche di fiducia, di speranza, di futuro. Dietro alle nostre spalle c'è la Proloco che fa le Caldarozzo, insomma il Vimbrulè, insomma come messaggio verso le feste di Natale, nonostante i limiti, nonostante tutto. Va un ringraziamento anche all'Ambima, che è l'associazione nazionale delle bande italiane, perché ha messo insieme la banda di Vallefoglia con quella di Montefelcino. è un segnale anche questo di rinascita, di ripresa e di fiducia nel futuro, nonostante un momento molto difficile. Ringraziamo anche coloro che hanno lavorato in queste settimane, abbiamo anticipato, l'anno scorso era una settimana dopo l'accensione delle luci, quest'anno subito dopo Peserofano e del resto non siamo che la terza città della provincia di Peserourbino, quindi il giorno dopo, visto che loro hanno fatto l'accensione ieri, e quindi speriamo insomma di uscirne presto da questa situazione e di ritornare a vivere una vita normale.